Signore e signori ben ritrovati nel mio canale, siamo nel dodicesimo episodio di Life is Strange La vita è strana? Beppe Vabbè parte di scherzi signori La grande richiesta, oggi è il secondo episodio Ieri non li ho portati ragazzi perché nel mio canale non c'è solo questo let's play Mi dispiace però gradirei davvero tantissimo che ogni volta che pubblico un video diverso da Life is Strange Ragazzi capisco l'affetto e tutto però con calma signori perché non faccio solo quello E non sembra mai molto impegnativo portarvi due episodi al giorno di questo Allora siamo appena stati nel van, nel camper di Frank Ah volevo ringraziare davvero tantissimo le due ragazze che oggi a Modena mi hanno portato questo disegno Le ringrazio davvero tantissimo per Gabbo da Elena e di Eleonora Le due ragazze che ho visto lì Grazie mille, davvero La prima volta che faccio vedere una fan art Che mi avete fatto La prima volta ragazzi, davvero Va bene, andiamo avanti Allora qua c'è Maxine, abbiamo scoperto che si chiama Maxine Che guarda una foto sua Oddio 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 No ragazzi È a fuoco Non sono mai bravo a mettere a fuoco le cose Non è a fuoco Cosa ci vuole mettere a fuoco qua Allora con uno sto fermo adesso Ah facciamo così allora Così è massimo del fuoco con questo E così è massimo del fuoco con questo Oddio Oddio Cazzo ma quello è William Cazzo lei è qui Cazzo lei è cosciente di questo Non è che cambia il futuro Possiamo giocare Sì raga possiamo giocare Oh merda Raga dobbiamo guardare ogni cosa adesso È molto importante È successo qualcosa Ah sì Rivista Non dopo oggi Patti nero a te Ragazzi cambierà un sacco di cose Questa cosa qua C'è qualcosa che abbiamo fatto Ricordo quei ottimi fotografi che ho fatto con Chloe C'è qualcosa che possiamo prendere Telefono Non è che Non è che la mattina dove muore lui No No ti prego non andare No 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 Dove sono le chiavi Le chiavi Le chiavi raga devo cercare le chiavi Le chiavi della macchina Eh se le trovo va degnito nel tempo e li ne nascondo Se le trovo prima lui Eccole Ok qua No dai prendile Cazzo secondo me Devo fargliele prendere Poi lei parla e torna indietro Devo aspettare un attimo raga Dai zio Sono sotto il cappello Non me lo fa prendere Ma Vediamo Hai visto che non mi fa andare indietro No ferma Non posso più farlo Non posso più farlo Ok No raga impazzivo eh No questo no Questo va bene Berretto cerca Perfetto Perfetto Ok Nascondire chi ha Ah devo trovargli Nascondiglio Cazzo Chissà dove cazzo Le vado a mettere Eeeh Raga dove cazzo Le vado a mettere Presa del telefono Ah possiamo anche Scollegare Le brucio Le brucio raga Barattolo Posso metterlo lì Disegna Cosa cazzo disegna qua Butta le chiavi Ok Ok Forse ho subito Beccato il punto giusto Raga Forse ho subito beccato il punto giusto raga I know I have those keys right here I know it Forgot all about you little buddy Release the keys Of course Last time I order from spy guy electronics You can take the bus right The stop is right down the street This I can do Good call max Oh yeah The bus is great It comes every 15 minutes And there will be plenty of room for you And joyce And grocery And And it will save the environment You sold me already I'm off the underbush Mamma mia raga Abbiamo salvato il culo a questo Max you are being so fucking strange You feel ok? Chloe I am awesome We are awesome Ha cambiato il futuro raga È passato Lei parte lo stesso no? No Questa rimane Questa si brucia Ottimo Questa rimane Questa si brucia Questa rimane In carica Tanta roba I do Woof ERS Um No Look at that T Hallo Are you even listening Maksine tutti i miei amici di L.A. mi hanno detto che l'Origan quando l'arrivo è freddo e freddo ogni giorno ma non è mai Maxi lo so, scusami, Maxi non mi freddo, certo? Certo? Hai ragazzo che freddo il ragazzo e freddo il ragazzo? Penso che Max è freddo Si tratta di così strana Sei freddo, Maxi? Non ho ascoltato quando ho detto che non dovessi lasciare il Vortex Corrie, non vuoi nessuno nel club Che cosa vuol dire sta roba? È nel futuro del passato? Oh no, questo è totalmente freddo Che altro ho cambiato? Chloe Lolle Ragazzi è bellissima sta cosa qua Che episodio, mamma mia Mamma mia, raga, adesso voglio vedere proprio Chloe Che cazzo di fine ha fatto? Mi scommero se lei tipo è morta quindi lei torna nella vita di prima Che cazzo ne so? È troppo stramba sta questa situazione qui Che pratica lei Nel presente che eravamo nella scorsa puntata è tornata indietro nel tempo ha sistemato le cose ha impedito la morte di William che poi ha cambiato un sacco di cose quindi adesso è nel futuro del passato sistemato una balena che brutto nooo Dimmi che c'è Che sta roba che gira? No, 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 raga, non riesco a capire ma non c'è una cosa di bello qua o no no, per niente non mi piace per niente e chi c'è dall'altra parte? e William grande è non è quindi che cosa stai a Chloe che che ho vismare c'è si GSPOA CHLOE che hai una servizio ma e le a puttana lo sapevo che cazzo io lo sapevo se proprio qualcosa non quadrava ma se adesso tornerò indietro nel tempo che cazzo ne so dovrò scegliere è finito il terzo episodio molto bello questo è come il quarto sarà ancora più figo poi ci sarà il quinto poi finirà tutto regalo non so che cazzo devo fa soprattutto perché in quelle condizioni adesso dobbiamo capirlo è assolutamente dobbiamo capirlo vediamo le percentuali con sono molto curioso sinceramente o il 48 per cento ha rubato il denaro pochissimo cioè vabbè poi più o meno uguale non ho baciato chloe invece molti l'ambascia dove ha fatto tutti due però mi sono deciso di non baciarla vabbè poi lì si è schierata con chloe l'ho fatto in tutti il cane non è stato ferito ovvio franca la pistola di david chloe la pistola di david franca che cazzo non mi ricordo lisa è morta 62 per cento non ha aiutato warren per l'esame 67 non sei sulla lista della festa del vortex 37 non hai mai non hai modificato la lista della festa del vortex lab 77 per cento non hai cancellato il messaggio del poliziotto 48 aiutato aliscia non hai avvertito la senza tetto e che hai fatto una foto nel passato hai lasciato un segno sul caminetto e questa cosa qua l'ha fatto in pochissimi raga grande ah perché lei adesso fa parte del vortex è vero la fine del mondo party raga secondo me qua sarà un grande episodio il 4 diciamo il 4 al 3 4 4 4 non è vero la fine del mondo Non ora, non funzionerà. Lo vedo che questo non è piacere per tutti noi. Cosa Cofi, per favore, diciamo tutto. Ehi, Stelma e Louise. È un braccia di Rachel. Perché stai usando il braccia di Rachel? Calma a te, ok? È stato un dono. Max, dobbiamo trovare a Rachel. Come tu hai detto, è ora di cercare le cose. Benvenuti nel mio domenio. Allora, troviamo quello che vogliamo e lo perdiamo. Max, dovresti andare a guardare questi file. Rachel in Dark Room. Più e più. È tutto. Ecco. Ho trovato foto di Rachel e Frank. C'è uno di voi che mi ha scritto Dark Room, Gabbo. Ricordati questo, Dark Room. Non mi credo che lei stava chiamando Frank. Rachel stava chiamando la mia faccia. Perché non diceva qualcosa? Quindi, chi vuoi più sbagliare? Il mio padre, ovviamente. Ciao? No, non. Sai cosa è come aspettare per il tuo padre di tornare a casa quando sei un figlio? Ever since il ha morto, la mia vita è stato diventata in s*****. Chloe! Sono fantastico! Siamo fantastici! Ciao! Hai ancora ascoltato, Maxine? Questo è totalmente s*****o! Che altro ho cambiato? Ha cambiato tutto, raga. Che se riesce a tornare indietro? Chloe! Hai un visitante! Eh! Parca e p***a, raga, quando hai visto con vai in quella stato lì, porco, due. Che roba! Che roba! E mo? Io non me lo sarei mai aspettato Sinceramente, mai proprio nella vita Questa roba delle balene, che cazzo è? Il mare si sta ritirando, boh, per il tornado Non ho idea Oh, mi sembra strano Perché c'erano le tre balene lì sulla spiaggia? Non riesco a capire, adesso vabbè Lo scopriremo insieme, raga Però che... Sono troppo curioso di sapere perché Chloe in quello stato lì Non era la balena Poi mi ricordo che c'era quello là fuori dal... Dal... Dal dinner Che diceva se abbiamo le balene Guardali, non sono tre, sono di più Poverine Ah, episodio 4, dark room, proprio Eh, qua secondo me ci avremo notizie di Rachel, raga Anche se, boh, se siamo tornati indietro nel tempo Mi ha cambiato la storia Rachel in teoria non dovrebbe esistere Madonna che lo è Chissà se magari è cambiare il passato per un futuro migliore O per un futuro E ne ha scritto È così, Max, è così pretentio Ma mi piace scrivere su questo come un poeta inglese Ma... La scella Ma... Questa è sicuramente la visione la sua Questa è sicuramente la migliore Cosa che sono chiamati? La casa La città Di vedere? Non è venuta qui io non ho capito È giusto che possiamo prendere alcuni figli I Quei l'envigli Quei i bianchi sono troppo L'ano Cosa non so come si sentono almeno io vivo qui con te sei un vero survivor chloe so che devi affrontare tantissimo non voglio nessuno sentire scusa per me posso farlo anche con i miei bambini mio padre ancora senta culo di me che mi ha fatto parlare dell'incidente dare la colpa a william non ti preoccupare william mi ricordare il hybrid che volevo per la mia sweet 16? no, mi preoccupare l'assolo che mi ha fatto e mi ha fatto in un po' ti ricordi tutto? ho visto tutto in tempo con un bambino e... e quella era la ultima cosa che ho mai sentito nel mio corpo quando sono in ospital non potrei riuscire un muscolo Gesù non lo so 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 solo sono felice che ho potuto vedere potrei potrei riuscire come quella di Blackwell non lo so rachio quando hai detto quando hai parlato con le ho? eh non non ho solo ho scopo non lo so non lo so non lo so questo è un mondo che quando siamo bambini dopo la scuola eclipsa è più come la fine non lo so credi credi non lo so non ho non ho non ho più 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 non lo so più sono un scienzi ma non lo so non lo so non lo so ma non lo so ma non non lo so non lo so non lo so chloe è scoppolo non ho ancora non ho ancora che sono il mio se grazie per arrivare me tu stai bravo non lo so il mio cao potremmo potremmo E se potesse tornare indietro ancora una volta Mamma mia Ho parlato pochissimo questo episodio perché sono parecchio sconvolto E infatti raga io basta Cioè basta Sono curioso davvero di sapere cosa succede dopo E ci vediamo domani con un nuovo video Qui da Gabriel Square tutto Bella